Ancora c'è gente che si permette di dire, alte cariche politiche, alte cariche di governo, aspettiamo il vaccino per uscire. Ma questa è un'idiozia, se io dovesse essere lo stesso tra il paragone e l'AIDS, cosa succederebbe? Non c'è ancora un vaccino per l'AIDS. E quindi per il coronavirus si presumo che ci possa essere un vaccino, ma io non posso dire questo. Non parliamo di quello che non faccio nome, che appena ha detto che dovrebbero essere obbligatori certi vaccini anti-influenzati. Quando già ormai è notizia comune a livello scientifico che il 36% del coronavirus è attivato proprio dalle vaccinazioni anti-influenzate. Oggi ci sono queste gastronerie, cosa veramente da... No, lasciamo stare perché se no mi incavolo veramente. No, no, non si arrabbia, ma quindi mi sta dicendo, ha sentito che forse vorrebbero fare per i 65 anni in su, da settembre, il vaccino per l'influenza. Lei direbbe di no? Io mi rivolgo alla magistratura, a più alti gradi, che mettilo subito in galera queste persone. Titoli inventati e bufali, questo dice questo Coccia. Coccia, guarda, se hai il coraggio, chiama qua, così poi parliamo insieme di questa storia qua, di questa e di altre. E anche della red dove lavori te. Così ci spieghi perché prendete 8 milioni e mezzo all'anno e noi non prendiamo un centesimo da 30 anni che li prendete. Poi ce lo spieghi perché. Coccia, chiama qua. E invece di scrivere queste stronzate, informati. Perché il tuo giornale, il tuo gruppo, prego la regia, ha pubblicato poco tempo fa un altro articolo che parla del professor Tarro, che è professore, diciamo, con tutti i suoi titoli, che è allievo di Sebin e che praticamente avrebbe dovuto avere. Eccolo qua. Vedi, questo articolo che stiamo vedendo è nell'archivio della Repubblica. Ha un curriculum lungo 400 pagine. Vedi, c'è scritto, vedi, 300 pubblicazioni e tre lauree ad onore negli Stati Uniti. Oltre a quelle italiane, ovviamente. A scorrere i suoi... Praticamente parla della carriera di un uomo di scienza che ha dato al nostro paese tanto, 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 tante cose perché ha contribuito anche a sconfiggere molte malattie, epidemie nel passato, che oggi ha superato gli 80 anni, che è una persona che ha donato molto e ha fatto molto per il nostro paese. La Repubblica scriveva questo poco tempo fa. E adesso l'allievo di Sebin, uno scienziato che la stessa Repubblica cita come tale, dopo poco tempo arriva Coccia e dice che è un inventore di idoli, è una bufala. Allora mettetevi d'accordo, Coccia, chiamaci. Io ti sfido. Ma perché? Perché prima di fare questo giornalismo becero che fai te e tutti gli altri che hanno scritto queste cose. Ma informatevi veramente, non andate a vedere queste cose. Per cortesia, andate a vedere piuttosto perché i grandi virologi che stanno chiacchierando in televisione le hanno sbagliate tutte. Cosa hanno fatto? Fate una bella inchiesta sui bulloni di turno, su quelli che fanno i guitti in televisione approfittando del palcoscenico che gli viene dato da questa gente. E poi parliamo. Per cui io sulla comunicazione... Ci contarei nemmeno tutto questo spazio? No, no, vabbè, però la gente deve sapere che la comunicazione oggi è fa. Ma è certo, ma chi lo conosce? Ho capito, però questa è la comunicazione, gli vengono dati questi spazi. Al bullone di turno viene dato uno spazio tutte le settimane per raccontarci le stronzate in tv, va bene? E a questa gente qua viene dato un giornale che ha una rilevanza anche perché l'Espresso e Repubblica hanno rilevanza. Quindi in qualche modo bisogna spiegare alla gente che questi ormai sono giornali di regime, non rappresentano una vera informazione libera. Questo lo dobbiamo dire, che gli emittenti come quelli che abbiamo citato prima prendono soldi pubblici e quindi non possono andare contro un governo che gli ha dato poco... pochi giorni fa gli ha dato 8 milioni e mezzo e grazie al cavolo che dicono state a casa, state a casa. Loro lo stipendio ce l'hanno assicurato, noi qua dentro no però, hai capito? E noi non abbiamo partiti dietro, non abbiamo rappresentanze politiche, noi siamo realmente indipendenti. Allora, se questo è un paese che deve fare, deve agire in questo modo, io non ci sto e quindi lo diciamo. Però adesso la regia ci collegherà con il professor Tarro, con il quale però parleremo di medicina, parleremo di altre cose perché a noi interessa questo, a noi interessa sapere la verità dal punto di vista scientifico. Le polemiche sulla comunicazione falsata, le polemiche sulla comunicazione oscena che stiamo vedendo, le facciamo noi in separata sede. Quando si parla di scienza, parliamo di scienza e evitiamo di fare queste cose. Quindi vediamo se abbiamo in linea il professor Tarro. Eccolo qui. Professore, bentornato. Buongiorno. Professore, allora, un'ultima cosa. Abbiamo pochi minuti e sappiamo che lei in questi giorni è impegnatissimo quindi noi fra cinque minuti la liberiamo. Però le voglio dire, quindi, se lei dovesse dare una sorta di scala di pericolosità di un vaccino invece artificiale, abbiamo detto rispetto a quello naturale è infinita perché quello naturale non vi è pericolo mentre invece in quello artificiale abbiamo problemi maggiori. Ecco, il vaccino che si sta tanto ricercando, lei ritiene che in tempi brevi possa arrivare e quanto potrebbe essere l'affidabilità di un vaccino artificiale su un coronavirus che sappiamo essere così mutevole, tanto da aver fatto dire anche ai virologi da salotto che un vaccino per l'influenza e per tutti i coronavirus è molto difficile da rendere disponibile e che sia certo, universale, duraturo e soprattutto innocuo. Ecco, qual è il suo parere sul vaccino artificiale? Ma io penso che noi ci dobbiamo rifarci sempre, come dire, alla passata esperienza. Credo sia importante sapere che i coronavirus sono normali e perché sono soprattutto anche responsabili di malattie degli animali. Esistono dei vaccini che sono stati preparati, come il vaccino per i polli, per esempio, in Israele, per fare un esempio. Per quanto riguarda invece le cause, per dire, maggiori, dopo la prima SARS sicuramente saranno stati già fatti dei tentativi ma nessun vaccino è stato comunicato tranne l'utilizzo degli anticorpi monoclonali umani per quelli che hanno bloccato l'infezione nel furetto. Per quanto riguarda in particolare la SARS del Medio Oriente che è una malattia, diciamo, a macchia di leopardo, come la chiamiamo, qua e lì qualche epidemia come c'è stata nella Corea del Sud del 2015 anche in quel caso quello che è venuto fuori è l'utilità di queste cellule della memoria immunologica delle cellule B e per quello che riguarda anche gli anticorpi monoclonali dell'uomo e quindi soprattutto la seroterapia, quindi il sangue del paziente guarito che poteva contenere gli anticorpi deve essere utilizzato ed è stata una cosa già pubblicata nel 2015. A questo punto allora, che devo dire, per questo coronavirus non è stato fatto nessun vaccino. Ovviamente, ora, tutti aspettiamo il vaccino da quest'altro tipo di coronavirus che per la terza volta in questi vent'anni ha dato, diciamo, questo aspetto, diciamo, di patologia. Vediamo. Potenzialmente perché no. Il professore è veramente un gentiluomo perché è chiaro che, come dice, non c'è due senza tre. Cioè, per due volte il vaccino non è servito, non è stato trovato, non aveva la sicurezza. Questa è la terza volta che ci si prova. Ma aspettiamo che finisca, come abbiamo detto, e alla fine usiamo i vaccini naturali, quelli dell'uomo, quelli del plasma e altre cose, come ci spiegava. E' così, professore, poi alla fine, perché lei è molto educata e non vuole arrivare a conclusioni perché sappiamo che poi l'attaccano. Però, insomma, voglio dire, alla fine è così. Ma io mi rifarei anche antivirali in particolare. Tendiamo presente come, perché quando ci sono troppe, come dire, varianti virali, allora è molto più facile utilizzare l'antivirale. Cioè, un farmaco, sostanzialmente. Cioè, meglio il farmaco del vaccino, alla fine. Ma l'abbiamo avuto, ad esempio, clamoroso dell'epatite C. Sì. Per non parlare, poi, un altro vaccino che tutti hanno sempre ricercato, e ancora, lo ricercano ancora, è quello per l'AIDS. Certo. Che poi, comunque, anche quello sia un po' esaurito naturalmente, se vogliamo. Non c'è più quella paura degli anni Ottanta, insomma. Soprattutto il cocktail di farmaci, che dal 97 in poi, è possibile usare. Purtroppo c'è stato un problema economico, che non è stato usato a sufficienza, o perlomeno in tempi giusti, in Africa. C'è stato fino ancora al primo dicembre, quando viene comunicato il numero delle morti legate alla malattia, purtroppo siamo sempre su un milione di morti, per quanto riguarda l'Africa in particolare. Certo. Professore, noi sappiamo che l'ha impegnato, non la disturbiamo. Francesco, liberiamo il professore, perché sappiamo che ha un impegno fra pochissimo. Lei sa che noi non la disturbiamo spesso, perché sappiamo che lei deve lavorare, studiare e fare ricerca ancora. E quindi le diamo appuntamento, casomai, alla prossima settimana, quando magari faremo insieme a lei, se avrà piacere, un altro punto della situazione, certi che già da qui alla prossima settimana avremo ancora altri dati, che probabilmente, anzi sicuramente, anzi auspicabilmente, confermeranno quanto lei ci sta dicendo ormai da un paio di mesi, ovvero che ci sarà una curva di discesa che ci porterà fuori da questo tunnel. Grazie, professore. Grazie a voi. Buona giornata al professor Giulio Tarro. Grazie.